Musica La conoscete sempre? Sì Hai visto? Sì, è arrivata da Vesi Sì 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 Non voglio fare selfie Quindi prendo il mezzicattino e ci ho detto no Se mi ricordo? Sì Vede 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 Sì Sì Maria Iamba Grazie Buongiorno 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 Questo è mio L' Carmen Buongiorno 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 Sì, è un'assessore. Sì, sì. Una sessant'anni d'ora. Dai, lascia bene. No, guarda che è unica in Italia. Sì. È una così bella magrozza. Ci sono sulace. Sulace! Molto bello. Andiamo di qua. No, no, di qua, di qua. C'è la novità. Scusami, scusa, vienita. Che bello. Chiudi, chiudi, chiudi. Sì, entriamo sul mare. E lui che fa il vino. Paola, per fare le mani con le bufole. Grazie. Facciamo ieri un caffè di così bello. Sì, certo. Un caffè di così bello. E guarda che ti faccio vedere adesso. Vieni qui. Ecco, lo facciamo sempre. Abbiamo 30 minuti a fare i canali. Sta girando. Sì, un caffè. Te lo faccio subito. Che bravo. Sì. È stato bellissimo. Un'altra intervista. Una nuova brochure. Per venire. Bellissimo. Questo è marmo. E guarda. E quello va. No, è scusa. Io comincio a farvi la visione. Prima di andare a mezzo, se c'è un'apertura. guarda che non sapete vedere che sono... Ma scusami, adesso sto lavorando. Mi devo dire se non ti potrò fare niente. Scusami. Questa è la verità. Anzi, dovresti dire. Spermazzino un attimo. Signora. No. Su video sono ancora più utile. No. 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 Anzi, chiederemo il tuo messaggio. Grazie. Scusami. Anzi, chiederemo il tuo messaggio. Sono normale. Però un momento. Allora, ce la sono. Sono due, grazie. Come? E dovevamo Serbia? Sì, è anche Venezia. Lei no, lei no. Lei no. Siamo due di noi. Allora, vieni anche tu a Cervo. E' un'epoca. E' un'epoca. E' un'epoca. E' un'epoca. Proviamo i tartufi. Adner, dove sei? Tu c'è il grande carro. Eh, grazie. E' Jacqueline non mi in francese. Non mi vuoi solo caccia. E' un'epoca. E' un'epoca. Anche si parla. E' un'epoca. E' un'epoca. Vedi che qui non c'è la tappa? Questa è una sardegna Ma chi c'è? Ma chi c'è? Non fare meravigliore E poi si passa ai social, siamo parati di social Vito e Ponelli Fino a quest'area, la linea linea qua, le vada come le donne Sì, se hai sempre ricevuto per l'occasione Vedi le cose che mi fa qua? Non è molto più gioco E se ne va Senti, hai il disegno Elisabetta Ma fai i fiosi e i fiosi non significa che qui c'è Carta Carta? Sallo Siamo viste a muovere Vedi? Non c'era tappa È un po' tardi Non c'èbbe un po' tardi Lui, ma non c'è mai Sì, ma non c'è mai Sì, ma non c'è mai Guarda qui, c'è il salto 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 Grazie a tutti. Eccolo qua, Pasquale Buova, con il suo tristo. 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 Grazie. 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 Francesco Grazio. Grazie. 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 Grazie a lei. Grazie. 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 Grazie.